TG Vicenza Buonasera a tutti i telespettatori dal centro operativo del comune di Vicenza che è stato allestito qui ad AIM. Il sindaco ha appena finito il vertice. Che cosa emerge? Proprio notizie delle ultime ore. Beh intanto stiamo facendo, abbiamo appena finito di fare un check su tutti i controlli sui territori per capire tutti gli interventi da fare per la messa in sicurezza di strade, persone e quindi tutta la zona interessata di solito degli allagamenti. Ora stiamo aspettando naturalmente la piena che sarà nel giro di 3-4 ore, questa è la previsione, quindi è stata anticipata rispetto alla mezzanotte intorno alle 10 di questa sera e dovrebbe essere una piena che in questo momento passa dai 5 metri e 30 ai 5 metri, quindi sotto soglia. Si abbassa il livello di attenzione in questo momento? Si abbassa, però siccome c'è un andamento che va in aumento e va in diminuzione di continuo, la pioggia di queste ore può cambiare ancora la situazione, quindi stiamo monitorando questo aspetto. Siamo ampiamente sotto il livello di esondazione che è fissato a 6 metri e 28. Esatto, 6 metri e 28 è il limite da non superare assolutamente, ho parlato questa notizia perché il Presidente mi ha autorizzato a riferirlo, ho chiamato Luca Zaia per un confronto sul bacino di Caldogno e chiaramente c'è la disponibilità ad utilizzarlo secondo le indicazioni, ma anche in deroga rispetto al protocollo, quindi sotto i 5 metri e 40. L'ultima parola però per essere chiari non spetta nemmeno la Presidente della Regione, bensì è il genio civile, è il genio civile che deve valutare questa situazione. L'auspicio è che con questa occasione si possa anche fare il collaudo e quindi utilizzarlo. Attenzione però che quando si utilizza il vaccino poi per un certo periodo non si può più riutilizzare e nei prossimi giorni ci sono nuove situazioni di perturbazioni importanti e quindi bisogna farlo solo in determinate situazioni. Certo, quindi bisogna anche essere persimoniosi e ragionare bene prima di utilizzarlo in questa occasione. Altre novità? Il Palazzo Trissino è aperto tutta la notte? Sì, abbiamo attivato tutta la notte il servizio del numero verde che potete trovare sui social, l'invito è sempre a tenersi informati attraverso i canali istituzionali, di non ascoltare fake news che stanno girando in maniera anche vergognosa in queste ore. C'è una maleducazione, una stupidaggine rispetto a situazioni di emergenza ben serie perché evidentemente qualcuno sta sottovalutando questa cosa. Io veramente trovo la cosa imbarazzante però ci tengo a dirlo perché è giusto che la gente sappia poi cosa accade anche sui social e quanto inattentibili possano essere. E quindi il Palazzo Trissino rimarrà aperto tutta la notte, H24, ci sarà anche lì un presidio. Ecco, in chiusura ha un messaggio, un suggerimento per i cittadini, per i vicentini che in questo momento sono in allarme per la situazione, visto che si ricordano ancora bene l'alluvione di ogni Santi. Io vorrei dare naturalmente un messaggio di tranquillità e di serenità, è chiaro che non va sottovalutato nulla e quindi bisogna monitorare, essere informati attraverso gli organi di stampa, comunque i mass media, attraverso i social istituzionali, attraverso il sito del comune, attraverso la messaggistica che facciamo in maniera costante durante la giornata e comunque di seguire le istruzioni. Se si fa questo secondo me la situazione dovrebbe essere sotto controllo. Piaggia battente e vento, Vicenza e il Vicentino sono sferzati in queste ore dal maltempo. Attivato da ieri dal sindaco Francesco Rucco, il COC, centro operativo comunale, un'altra trentina di centri operativi si sono insediati sul territorio per far fronte all'emergenza di possibili esondazioni dei fiumi Tesina, Bacchiglione e Brenta. 2000 i sacchi di sabbia distribuiti nei punti chiavi in città e pronti ad essere utilizzati. Fiumi monitorati speciali come anche le linee ferroviarie, particolare attenzione per la linea Vicenza-Schio che nel 2010 era rimasta chiusa. Se strade statali e regionali non hanno risentito al momento del maltempo che si sta abbattendo in zona, diversa è la situazione per la viabilità provinciale. Abbiamo la SP350 momentaneamente interrotta a chilometro 31 più 500, la SP81 in località Ganna che rimane chiusa almeno per 48 ore e la SP85 in località Carotte. Chiusa in mattinata la viabilità in centro d'Alta Villa Vicentina mentre le idrovere pompavano l'acqua caduta copiosa nel quartiere alpini e che le caditoie non erano riuscite a far defluire. In una città semideserta ad agevolare l'attività della protezione civile, vigili del fuoco e tutte le forze messe in campo, l'ordinanza del prefetto. Il provvedimento che è stato adottato di chiusura delle scuole senz'altro ha avuto come effetto positivo anche quello di rendere il traffico meno intenso, quindi più agevole anche la possibilità per chi si muove in situazioni di emergenza. Anche il servizio di emergenza e urgenza è pronto ad entrare in campo. Abbiamo già attivato a livello provinciale tutte le risorse disponibili da parte delle aziende ospedaliere che confluiscono nella nostra provincia, quindi sia l'azienda 7 che l'azienda 8 sono state completamente alertate. Abbiamo predisposto degli equipaggi reperibili e oltre a questi abbiamo già attivato degli equipaggi supplementari. La nostra direzione medica ha già predisposto sia le dimissioni di tutti i pazienti dimissibili in modo da poter liberare posti letto, in modo da avere la disponibilità eventualmente all'occorrenza. Pioggia, detriti, fango e un rumore sordo che mette ansia. Due contrade di Posina, doppio e lissa, sono isolate. Il torrente Posina, che nasce al confine tra Veneto e Trentino, è esondato, invadendo la strada che porta al passo della Borcola e rendendo inagibile circa 200 metri. Il maltempo in questo comune sta rendendo la vita difficile ai 500 abitanti. La pioggia forte, le nuvole bassissime e il torrente è diventato impetuoso a causa dei numerosi affluenti. In questa valle stretta e lunga 20 chilometri preoccupano le istituzioni. La situazione adesso è sotto controllo, abbiamo ripresionato provvisoriamente la viabilità, stiamo portando in paese le persone anziane e speriamo che le precipitazioni delle prossime ore non ci creino altri problemi. Quante sono le persone coinvolte? Sono due contrade, sono circa 10 persone, una decina di persone scarse. Sono però state portate qui? Stiamo portando qua, le stiamo portando qua. Marranno qui? Questa notte, dopo se domani gli eventi, perché comunque è solo una precauzione. Non si aspetta per stasera e domani? Che finisca di piovere. Sul posto protezione civile, vigili del fuoco e croce rossa e i tecnici del comune, che hanno lavorato tutta la notte per riportare la situazione alla normalità. Il sindaco ha deciso di evacuare una decina di persone, per lo più anziani, che sono stati accompagnati in paese un paio di chilometri più a valle e ospitati in albergo, anche se quattro di loro non si sono voluti allontanare da casa. Solo nel pomeriggio poi la strada è stata riaperta e alcuni altri residenti sono così potuti ritornare nelle proprie abitazioni. Migliaia di alberi caduti, corrente interrotta e molte strade dell'altopiano di Asiago impraticabili per la presenza di tronchi, rami e terra sull'asfalto. È l'effetto del maltempo, con il fortissimo vento e la pioggia che hanno creato disagi e danni su tutto l'altopiano di Asiago, con almeno 16 persone rimaste per ore intrappolate nelle auto sulla strada che da Asiago porta al Lavarone. Il sindaco ricorda come in passato ci siano state perturbazioni anche peggiori di questa, che però in compenso ha creato danni ingenti alle strade. Sono strade bloccate, macchine rimaste anche sotto le piante oppure bloccate per parecchie ore. Stiamo adesso liberando un po' tutte le strade, in particolare stiamo liberando l'Asiago Trento, e la provinciale che va da Lavarone, che va giù verso Trento, stiamo liberando quella. Abbiamo questa notte liberato la strada Canove-Cesuna, c'era un pullman bloccato con studenti e siamo riusciti verso le 11 di sera a sbloccare il pullman e anche altre macchine bloccate. La zona più in ginocchio è dunque quella di Roana, in particolare le frazioni di Cesuna e Canove, senza energia elettrica e con la protezione civile al lavoro per tutta la notte, per riaprire le strade e far tornare alla normalità la circolazione. Migliaia di alberi in migliaia di metri cubi abbattuti. Nessun ferito però? Nessun ferito. A Roana nessun edificio è stato lesionato, né si registrano feriti. Al lavoro però decine di uomini per tagliare gli alberi caduti anche all'interno del bosco e per riparare i danni creati alla linea elettrica. Sono circa 13.000 le famiglie dell'altopiano di Asiago senza elettricità da più di 24 ore. Il maltempo e la caduta degli alberi hanno causato l'interruzione della linea dell'alta tensione che sale dalla pianura e provocato problemi alle comunicazioni via telefono cellulare e internet. Al lavoro ininterrottamente 100 vigili del fuoco in doppio turno con volontari di rinforza arrivati anche dai distaccamenti di Tiene e Recoaro. Oltre 130 gli interventi in provincia, in totale tra Recoario e Asiago, sono state 50.000 le utenze elettriche interrotte. Il centro di Asiago invece, dopo l'ondata di maltempo, si presenta apparentemente normale. Ciò che non è normale è vedere tutte le serrande abbassate. Negozi, bar e ristoranti sono chiusi per la mancanza di energia elettrica. I frigoriferi dei locali e delle abitazioni non funzionano. Anche le comunicazioni sono quasi impossibili per il blackout dei ponti radio, dei telefoni cellulari. I danni causati dal vento sono stati veramente ingenti perché sono stati gravemente danneggiati sia i cavi dell'alta tensione sia i tralicci dell'alta tensione, quindi della linea primaria che porta l'energia elettrica in alto piano. Al lavoro anche protezione civile e volontari, la priorità oltre all'energia elettrica è quella di ripristinare le strade. L'unica strada che non è libera è quella che porta al Passo Vezza perché ci sono centinaia di alberi in mezzo alla strada. Possiamo parlare di migliaia di alberi caduti complessivamente? Sicuramente migliaia è un numero proprio residuo perché sono veramente tanti, quelli in mezzo ai boschi sono incalcolabili. In queste ore l'amministrazione ha deciso di tenere chiuse le scuole anche per mercoledì 31 ottobre proprio per la mancanza di energia elettrica. Se non abbiamo la corrente, l'energia elettrica, le scuole ovviamente dovranno rimanere chiuse. All'ospedale intanto è stato fornito un gruppo elettrogeno da 450 kilowatt per garantire il normale funzionamento della struttura e le due case di riposo sono state allertate con un piano in caso di emergenza. Danni, quantificazione? Quantificarli è difficile in questo momento, dobbiamo raccogliere i dati, però la raccolta di dati deve essere puntuale. Però penso che siamo a livelli dell'alluvione del 2010. Lei ha fatto un appello per la montagna veneta? L'appello è che la montagna veneta sia assolutamente non dimenticata, non è sotto i riflettori, è difficilmente raggiungibile e soprattutto se è isolata. Però è fondamentale che si parli di questa devastazione che c'è stata, che pari un terremoto, andate a visitare delle località e vedrete. Noi chiediamo al governo sostanzialmente aiuto. Presenteremo questo dossier e spero che partano subito quelle misure canoniche delle grandi catastrofi che sono quelle del procrastinare il pagamento delle tasse o gli addempimenti fiscali e che sono quelli di aiutare da subito i nostri cittadini. Un appello lo faccio alle banche affinché blocchino il pagamento del rato di mutuo per gli agluvionati, coloro che hanno avuto questa catastrofe e magari mettano in piedi dei pacchetti di aiuti che siano veramente pacchetti agevolati che siano sotto profilo finanziario dei veri e propri aiuti. L'ultimo appello è per i veneti perché non lasciano la loro montagna. Quindi la prossima estate è esserci e cercare di incentivare l'imprenditoria di montagna gravemente colpita. Sì, e dico adesso si sgomberano le strade, si faranno le pulizie, un appello a tutti, i soldi veneti rispondono a questi appelli. Anche questa è una forma di volontariato, andare nella montagna... Poi lei ha detto a quelli che invece sono stati colpiti non fate i veneti, prima fotografate. Assolutamente, sì, i veneti sono eccezionali, puliscono velocemente, ripuliscono le strade, i cantieri, dalle masserizie, dalle frane e poi finisce che i dossier non si riescono ad alimentare con le foto perché mancano foto autentiche, forti. Quindi un invito a tutti a fare foto e farcele avere in regione o fatele avere i vostri sindaci e dopo ce le faranno avere. Cielo grigio, il maltempo torna a incupire l'orizzonte. A Vicenza il sole è durato il tempo di una breve tregua, poi già dalle prossime ore, spinte dal caldo vento di Scirocco, tornano le piogge sulle Alpi che poi andranno a loro volta a scaricare acqua sui fiumi già grossi. Sull'altopiano i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per rimuovere dalle strade rami e tronchi con migliaia di alberi caduti. La zona più in difficoltà è quella di Roana, con decine di uomini impegnati a riparare la linea elettrica dopo che le frazioni di Cesuna e Canove sono rimaste senza luce. Il centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha emesso un nuovo avviso sui possibili effetti della perturbazione in arrivo che potrebbe creare problemi ai fiumi principali che continuano a essere monitorati dalla protezione civile. Le condizioni meteorologiche però non sono così gravi da consigliare al sindaco di Vicenza di proclamare un nuovo stato di attenzione. Non ancora, ma si torna a guardare il bacchiglione e il retrone, in particolare chi vive e lavora nella zona di Ponte degli Angeli che porta ancora le cicatrici della grande alluvione di ogni santi del 2010 e che non vuole tornare a vedere gli spettri di un ritorno al passato. Beh, insomma, visto che io abito proprio in questa zona, siccome già nel 2010 c'erano stati parecchi danni in questa zona di Ponte degli Angeli di San Pietro, con Tras San Pietro, ho portato la macchina in un posto sicuro, però in cantina, in garage, non è che si possa eliminare tutto. Però ci è andata bene. Hanno detto che hanno fatto due bacini di raccolta a Caldogno, serviranno a qualcosa? Ci ha davvero rasserenato il fatto che in questi anni hanno creato il bacino, che hanno sistemato tante situazioni che erano comunque a rischio e per fortuna. Però il futuro si vedrà perché prevedono piogge e quindi... Occhi puntati sul bacchiglione. Siamo a Ponte degli Angeli, a Vicenza, luogo simbolo dell'alluvione di ogni santi del 2010. Quest'anno il primo novembre per la città è passato in colume, però torna il maltempo, torna a piovere e allora chiediamo all'assessore alla protezione civile, Matteo Celebrone, c'è da preoccuparsi? No, assolutamente no. Purtroppo il tempo resterà brutto anche per i prossimi giorni, però non siamo in stato di emergenza. Ci sono delle previsioni su prossima settimana che ci mettono un po' sull'attenti, soprattutto i primi giorni e fino a giovedì, però per ora sono ancora previsioni, non ci sono né avvisi né allerte da parte della regione. Vediamo laggiù l'asta che misura il livello del bacchiglione. In questo momento il fiume di Vicenza è calmo? Sì, assolutamente, è un metro e venti. Ricordo che siamo ben distanti dalle altezze che mettono in pericolo e in allerta la città andiamo a 5,40 metri. Quindi oggi siamo in massima tranquillità, nonostante purtroppo il tempo sia brutto. Le prossime ore, allora, ribadiamo che i vicentini possono stare tranquilli? Sì, possono stare tranquilli. Chiaramente se ci saranno comunicazioni, saranno date da parte dell'amministrazione comunale, purtroppo viviamo i momenti di crisi e siamo vicini a chi in montagna sta soffrendo in questi momenti. E' stato un fulmine al Celsereno, non ce l'aspettavamo così in fretta e soprattutto non con questa modalità. 121 dichiarati dall'azienda con quadri e manager. La richiesta dei sindacati al prefetto di Vicenza di discutere la delicata e complessa crisi della Miteni oggi è stata accolta. Tutte le parti istituzionali coinvolte erano presenti, comuni, provincia, regioni e per il governo il ministro Erika Stefani. Ma i tavoli di discussione sono stati due, da una parte l'azienda, dall'altra i sindacati. I lavoratori in questo momento con grande senso di responsabilità sono all'interno dell'azienda, continuano le produzioni e la fine delle reazioni, però bisogna capire, mettere in sicurezza gli impianti e quant'altro. I rappresentanti istituzionali concordano chiedendo garanzie sull'occupazione. Tutti stiamo lavorando insieme per cercare di far rientrare la situazione chiedendo fin da subito il ritiro della procedura di licenziamento. L'altra priorità chiesta all'azienda sono le condizioni per garantire la sicurezza del sito. Si presenteranno nei prossimi giorni un piano per la messa in sicurezza del sito, per lo svuotamento e lo presenteranno le autorità competenti, tra cui anche i vigili del fuoco che sono presenti al tavolo. Continuerete a garantire la sicurezza? Assolutamente sì. La sicurezza verrà comunque mantenuta e poi vedremo appunto cosa succederà anche in funzione di quello che ci dirà il prefetto. Cent'anni, un battito di ciglia. A Vicenza la grande guerra fa parte della vita. Nei quattro sacrari sul Pasubio, Cipagrappa, Tonezza ed Asiago riposano le spoglie di 85.000 soldati caduti per la patria e in loro ricordo, 2 novembre, nel cimitero maggiore, è stata celebrata una messa. L'idea è l'inizio di questo ultimo fine settimana di celebrazioni che culminerà nella giornata di domenica 4 novembre quando la festa delle Forze Armate suggellerà la fine di un percorso di memoria. La conclusione di un percorso che si è notato nel corso di questi anni in un territorio che è stato particolarmente sensibile e quindi è un territorio che ha vissuto in maniera molto forte quel periodo e che rivive adesso con i cent'anni. Io ho notato questo, una grande partecipazione. In Piazza dei Signori, domenica, il momento finale con la scopertura di una lapide voluta dal Comune nella loggia del Capitaniato in ricordo dei caduti della Grande Guerra. Tanti giovani del 99 morti e a leggere le lettere dal fronte dei soldati saranno gli studenti del liceo Lioi. Tutti i cittadini sono invitati. È un auspicio che deriva dalla considerazione della importanza dell'evento che suggella appunto 100 anni esattamente 100 anni dalla firma del Trattato di Pace a Villa Giusti e del successivo, sapete che la firma è avvenuta il 3 di novembre mentre il bollettino della vittoria è datato 4 novembre ecco perché si celebra il giorno 4 quindi è una data importante ma è una data che è direttamente, intimamente legata ad avvenimenti che si sono svolti, sviluppati per buona parte in questi territori. Celebrazione in cui sarà coinvolta tutta la città di Vicenza i negozi del Centro Storico esporranno la bandiera italiana sulle pareti della Basilica Palladiana uno spettacolo di luci e suoni dedicato al tricolore. Queste erano le notizie per quanto riguarda la provincia di Vicenza e il nostro comune naturalmente i fatti più importanti della settimana che si è appena conclusa io vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione per essere stati in nostra compagnia e vi auguro un buon proseguimento ci vediamo presto! con precipitazioni via via diffuse nel corso della mattinata con probabili locali rovesci o temporali verso sera possibile diradamento e successivo esaurimento delle precipitazioni sui settori meridionali della pianura limite della neve intorno ai 2200-2300 metri temperature minime pressoché stazionarie massime in calo anche moderato Frattinauto a Cassola consulenza, assistenza, risparmio, sicurezza www.frattinauto.it